Continuano i giri delle fiamme gialle tra gli esercizi commerciali della provincia di Ragusa. Dopo il maxi sequestro di prodotti cinesi nocivi, dopo la chiusura di alcuni negozi per la mancata emissione dello scontrino, dopo l'evasione fiscale o il lavoro sommerso con 13 lavoratori nero scoperti proprio ieri, adesso è il turno dei prezzi non esposti sulle vetrine dei negozi. Sembra proprio che in tempo di crisi molti commercianti si danno aiuto raggirando la legge, anche le più elementari regole del mercato. Questa volta sotto la lente di ingrandimento dei finanzieri c'è stato il comune di Pozzallo. Qui ben la metà dei negozi non espone il prezzo del prodotto in vendita. C'è quindi chi mette in evidenza oggetto e prezzo e chi invece pensa di occultarlo, magari per far entrare il potenziale cliente dentro il negozio e iniziare a contrattare il prezzo migliore, che spesso è sempre quello più vantaggioso per il commerciante stesso. Le fiamme gialle pozzalesi hanno battuto a tappeto gli esercizi commerciali della zona riscontrando irregolarità nella metà dei casi e saranno sanzionate in via amministrativa con importi che vanno da un minimo di 516 euro sino ad un massimo di 2.582 euro. Una bella cifra se si pensa che sarebbe bastato un cartoncino bianco e l'indicazione chiara e leggibile del prezzo di vendita del prodotto. Grazie a tutti.